La campagna è uno strumento arcaico, però lo poniamo in tempi moderni, ecco perché vi faccio solo sentire qualche melodia che appartiene al nostro DNA, diciamo, di danza, di canto e di riti anche religiosi. Diciamo, io sono più di vent'anni che faccio musica, musica etnica, per cui tutto il lavoro raccolto l'abbiamo raccolto con la precedente amministrazione facendo intitolare, infatti come diceva il dottor Gallo, città a custode dell'arte zambonale, proprio questo lì. C'è un altro progetto sulle fontane che suonano, dedicato proprio a questi strumenti. Purtroppo ci vuole attività frenetica, molte volte purtroppo i sicuri sindaci forse non trovano neanche il tempo e nelle risorse per dedicare effettivamente tutto a questo strumento. Ok, io invito il mio compagno Domenico a da accompagnare con il tamburello, perché questi strumenti devono accompagnati sia con il tamburello sia con il tamburello. ma è Domenico, il nome è una garanzia. Il nome è Domenico, è un'altra parte, ma è una garanzia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.